Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell'Occidente è che perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute persone che dimenticano di vivere il presente in tale maniera che non devono vivere nel presente del futuro vivono come se non dovessero morire mai e muoiono come se non avessero mai visto e muoiono come se non avessero mai visto e muoiono come se non avessero mai visto Grazie. 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 Grazie.